Crisi dettata dal Covid prima e acuita dai rincari dell'energia e delle materie prima adesso che pesano sul commercio. Ripresa che stenta a decollare anche in termini di presenze. Molte le serrande abbassate che campeggiano tra le vie del centro storico. Il fermento è proprio di chiusure e di problemi quotidiani perché persone se ne vedono pochissimo in giro per cui si lavora molto poco, molto male. Un clima veramente, come si può dire, una cappa tremenda. Penso che sia per un po' di città che sta zoppicando un attimino. Non vedo una città viva, non vedo una città vibrante, vedo una città molto spenta, un po' affranta, un po' triste, un po' delusa. Non solo a rendere difficoltoso il momento sono anche gli affitti alti al punto che alcuni negozi del centro storico si spostano altrove, segno di un'energia imprenditoriale che c'è, ma sceglie vie alternative per sopravvivere. Ci sono parecchi spostamenti in centro storico di attività che trovano affitti più equi, in base anche alla situazione che c'è adesso, e chiudono da una parte ma aprono dall'altra. Ci sono nuove aperture perché ci saranno durante l'estate delle aperture nuove in centro storico e anche chi chiude effettivamente c'è anche questo, però diciamo che è abbastanza equilibrata la situazione. Poi la situazione al momento è veramente critica, con il caro energia, con il caro del petrolio, speriamo che rientrino un po' i parametri e tutti riescono di nuovo a lavorare un po' come prima. Attività a rischio che ovviano ai rincari, come possono? Difficoltà che mettono a rischio le attività sicuramente, magari ci sarà chi di fare sette ore e ne farà sei per recuperare quell'ora di corrente, perché poi si cerca anche la soluzione per continuare a sopravvivere. Dobbiamo farcela. Noi stessi abbiamo cercato di ottimizzare le illuminazioni, cioè quando si può si cerca di spegnere riscaldamento, illuminazione.